Allora pocacciotti, benvenuti su questo nuovo episodio di God of War Allora, io essenzialmente mi sono perso e sono la limit con lui che si è perso Sappiamo che il nostro piccolo schiavo Slevo... non mi ricordo più come si chiama Schiavo Slevo... ma davvero non lo so C'era qualcosa di interessante nel deposito di Fafnir? No Tipo una cote? No, ma se la trovo me la tengo Adesso, questo Adreus sputa sangue Non penso che il ragazzo stia bene Sto bene Se ti dice che non sta bene Allora, sbricati Va bene Eccone uno No Uno Dove stai, cucciolo? Cucciolo Due Ah, solo due Questa cosa ci fa sicura Ciccicilità Ho appena capito che Magli non è tornato in vita Interessante So che gli Aesir devono trovare la loro strada per il Valhalla Niente Valkyrie, niente processo alle porte di Elheim Forse è per questo Come si lancia? Perfetto Perfetto Non mi ricordo i tasti perché ultimamente sono andato a lavorare E... Lascia stare Tanta roba Non ho giocato Come se saltava? Mmm, contondo Che falle dobbiamo portarci appresso qualcosa Ma fate nell'aperta Queste cose E si chiudono Mamma mia Guarda che poi Deserva bello Come si apre questa? Mi fa una ceppa Mmm, qui ci vuole un cristalluccio Mi pare di capire O c'è già? No Non ci serve un cristalluccio Per aprire una porta Guardate in giro Oh, guarda che abbiamo trovato Si è attaccato così brutale Dai figlio Andiamo ad aprire questo Ehi, aspetta Prendi 30 secondi Lancia Grazie E va Cosa c'è? Da dimmi Cosa c'è? Lui si sveti Andiamo a trovare Adreus Movite Sei lento Qua sopra c'è niente Questo me lo perdo per sicurezza Ho come l'impressione che ci servirà un altro Qui ci serve Del ghiaccio E noi non ce l'abbiamo Ok Padre Guarda lassù Dove? Dove te trovi? Va bene Grazie Grazie Sei un grande Vedi che sei utile qualche volta Utile Se non ci fossi tu Anche se lo slevo Persia Che fa? No Ripende dalla sciabola Che cosa ho tirato? Ma dai Oggetto leggendario Una sostanza informe trovata negli squarci del regno Si usa per migliorare le proprie Tante talismane Perfetto Perfetto Vabbè adesso possiamo pure andare Questo è tutto La Fafmir è tutto Andiamo È comodo questo passaggio In nome alla mano del gigante Che Che posto è questo? Non te ricordo I pescatori portavano qui il pesce E usavano questo congegno Per mandarne una parte Alla cucina dello Jarl Il resto veniva messo da parte E venduto C'è un'uscita sotto il porto Scopri questa Guarda qua la roba C'è un'apertura Ci arrivo Sto a fare tutto a caso Mi fate visitare? Davvero non avevo intenzione Ma per me l'importante Era semplicemente trovare cose E niente Non mi puoi gesticolare Va bene Adri Adri Aspetta non ce la posso fare io No vogliono per forza le catene Tanto io di sto Senti che tossica Al massimo muore Che c'è da dire Fammi scoperti questo Dai Starnuta Quanto senti di gente Possiamo arrivarci Sali su Cosa E' lì lo sfero C'è una corda qui Puoi anche lasciarla adesso Che ne dici di lanciarla La corda Che corino che sei Inutile Inutile La mamma almeno sapeva fare le magie Tu lanci le frecce E tante volte Giusto nei combattimenti Giusto nei combattimenti Salute Salute Ma sai che in periodi come questi Sembravano la peste Vero Posso entrare Io Mi riprendo l'aria Ripensiamo Ma guarda un po' che c'è qui Ma guarda un po' che c'è qui Che hai trovatoci Dai Un casino Un casino E ce la fa il pupo Ce la fa il pupo Non devo scendere Dobbiamo andare da questa parte E un'altra runa Eh noi le porte Stiamo aprendo No 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 Non dove usci Colpa mia Era il tuo per colpire Guarda dove si trova Uno Uno si trova qua sotto O qua sopra O di lato Eh no Di nuovo qui Ci siamo quasi Se lo dici tu Non mi ricordavo Di non aver distrutto le cose Si Dove dobbiamo andare E salire Chi è sto rumore Ciò che abbiamo fatto Scalare un gigante morto Cavalcare un martello in caduc Combattere i cattivi Cosa pensi avrebbe detto Che hai fatto molto strada Esatto Grazie Dobbiamo prendere la barra Dietro un lucchetto Vai che si muove Va Forse Freya Forse Freya dovrebbe dare un'occhiata al ragazzo No Ora sto meglio Dovevo solo riprendere i fiat Adesso dove andiamo Ora che abbiamo lo scalpello del gigante Dobbiamo scoprire la luna del viaggio per Iothenheim Da incidere sul sommo portale E sbloccare il viaggio tra i regni Fino alla terra dei giganti La conosci? Ahimè no Ma secondo il serpente I giganti affidarono quel segreto a Tyr Tyr è morto no? Sì Ma la sua camera segreta è qui vicino Le porte si trovano sotto il tempio Sommersse dal lago per generazioni E il nostro amico serpente non si è spostato Lì troveremo la leggendaria runa nera di Iothenheim Potremmo esplorare ancora Ora abbiamo lo scalpello e la camera è sempre lì È un peccato non usare la barca Vedremo ragazzo Ah tutto qui? Non possiamo ingranare e mettere in modo scavo Non c'è fuori l'uomo più forte Quando non riesce ad andare più veloce Non sempre la forza Non ci credo che Odino e Frey erano sposati Amore e odio sono più intrecciati di quanto pensiamo Ad esempio Odino odia i giganti e loro ricariano Ma la madre di Thor era la gigantessa Fjord Uno dei grandi amori di Odino Quindi Thor è metà dio e metà gigante Quando Fjord morì Odino passò molte ere in solitudine E quando infuriò la guerra con i Vanir Potei comprendere cosa trovava veramente Ce ne volle per convincerla Ma Frey accettò Per un po' lui pareva davvero cambiato Sembrava felice Sembrava che volesse farla felice Le concesse tanti doni da non poterli ricordare tutti La pace resse Ed ero davvero convinto che sarebbe andato tutto come previsto Ma alla fine Odino tornò a essere se stesso Ottenne la fiducia di Frey E si fece insegnare la magia dei Vanir Cosa che lei avrebbe rimpianto amaramente Ce la teniamo per dopo Bella la storiella La cabina è oltre quella serratura magica Eh si Basta cercare la runa Hop Devi fare più fuoco Ah l'hai trovato No Uno Dai che si trova Due Oh questa è da tre addirittura Eccolo Tre Tre Guardate il pote che ci prendiamo Wow Stiamo entrando nella camera di Tyr Non la trovo una bella cosa Eccone un'altra È Tyr Però Manca il pannello centrale Credevo che Tyr fosse un dio Non un gigante Sì Ma era amato da tutti Giganti inclusi È stato l'unico oltre a me Ad avere in dono la loro vista speciale Ehi Chissà se i giganti hanno dedicato un trittico anche a me Hm Sarebbe carino Avanti Aspetta Vieni Ti insegnerò a leggere No Non è necessario Tu mi hai insegnato tanto Ora ti insegno qualcosa io Va bene Va bene Atreus Avanti Tu già lo parli Leggerlo non sarà difficile Io so leggere ragazzo Ma non questa lingua Sei a metà strada quindi Ok Le rune rappresentano tante cose Gli dei O gli animali Aspetta Oh Vado troppo veloce Scusa Non è questo Senti rumori Senti quest'odore No Io no Sì lo sento Sembra Gas Pioggia Mori Tu hai rovinato tutto Me l'ero guadagnato quel martello Ma ora Tutti penseranno che l'ho avuto solo perché Magni è morto Mi scherniranno Ma se io uccido te Nessuno riderà di me No 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 Quanto sei stupido Hai preso da tuo padre Oppure da tua madre No No Era stupida e racchia No 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 Dai che te le perci No 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 Tu Non ne sai niente Di mia madre Oh è vero Ma tra poco ci conosceremo molto meglio Tu sarai il mio nuovo fratellino Non appena avrò ammazzato tuo padre Non hai mai avuto solo Non hai mai avuto solo Siamo non gli stasciね Ups Mi sa che l'ho steso Chissà Stai indietro Io so Siete me ne sarei giocati No Che sia Oh no, no, non è ancora finita, dai eh, e tu lo lasci scappare, ma io mi vedo venire, fratello sta male, Atreus, devi portarlo da Freya, presto, non c'è altro modo, il problema è che lui è l'unico a sapere dove si trova a Freya, senti un po', mi stava a insegnare a leggere le rune, secondo te in questo stato può continuare a insegnarmi a leggere le rune? No, non credo, Ma la direzione è questa eh, ma dobbiamo andare a passo d'uomo così, non possiamo correre con un bimbo in mano? Ok, la visuale si è sposta da se, in barca, Freya non è lontana, ah vabbè, se Luca non lo dice, portiamo Cicciobello in barca, mi sa che poi, simpatico così, sta più in silenzio, senti un po', ah, racconti una storia intanto, Eh, Mimir, Mimir, mi devi dire a strada, eh, benissimo, Ehm, ve la racconto io una storia, c'era un uomo e una donna in un bar, niente, voglio non uscire e si è preso me, e l'altro può essere un caffè, caverna della strega, ah, ah, Fratello, Odino ti osserva, specialmente ora che hai iniziato a sterminare la sua storia, la foresta di Freya è un punto cieco per lui, è la destinazione perfetta e solo lei può volarlo, Cosa gli sta succedendo? L'ho già visto nei mortali, un conflitto della mente che si manifesta come malattia corporea, mai visto in Dio, ma un Dio che crede di essere mortale, non oso pensarci, Ci siamo quasi Aspetta, perché, perché il bambino è un Dio? Oh, che cacchio, questa è una bella scoperta, io sto insultando, insultando Dio per tutto il tempo, no, ma il bambino non può essere un Dio, è così stupido, no, non è stupido, però è purtroppo umano, Dico, devono essere superiori, però, non devono essere superiori, bene? Avete capito il senso di quello che voglio di no? Moco mo, giri? Ha sacco di palla, Qualcuno ha chiamato il serpente? Ed è una nazzuona o una cartina? In effetti, qualcuno ha chiamato chi? È difficile contare i miei alleati, dato che un paio li ho sterminati, e l'altro li sono uccidi, e non sono, non erano alleati, perché che, che è la strega, ma, che mi mira, che mi, ma io ho tagliato la testa, e che si è sempre più risentuta? Senti un po', la febbre sale, inizia a tremare, è grave, sbrighiamoci, eh, quante volte siamo qua, ah, i passaggi già l'abbiamo, la domanda è, Come si t'è potta? Donna, mi senti? È urgente! Sono sempre una dea, vattene via! Il ragazzo sta male! Praia! È malato. Entrate. Questa non è una normale malattia, la vera natura del ragazzo, la tua natura si agita dentro di lui. Quindi, per un po', saremo due dei, che lui ha capito che pian piano, sta facendo due per due, in coscienza. Così è colpa mia. Esatto. Mi aiuterai? Certo. C'è un raro ingrediente, che si trova solo in Lime, il guardiano del ponte dei dannati, mi serve il suo cuore. El? Il regno dei morti, lo conosci? No, non questo. È una terra dal cielo implacabile. Nessun fuoco può ardervi, nessuna magia in tutti i nove regni, può sprigionarvi una fiamma, e contro i morti, la tua ascia di ghiaccio sarà inutile. Dovrei trovare un'altra arma. Illuminami. Dovrò tornare a casa. A un passato che avevo giurato di seppellire per sempre. Chi era prima non ha importanza. Il ragazzo non è il tuo passato, è tuo figlio. E ha bisogno di suo padre. Questa runa apre il ponte verso Lime. Quando ci sarai, non dovrai in nessuna circostanza attraversare il ponte dei dannati. Da lì non si torna, hai capito? Ragazzo! Emily! Devi far presto. Un sentiero nel giardino, porta la mia barca, prendila, torna a casa, ritrova il tuo passato, fa ciò che devi, ma portami il cuore del guardiano del ponte, e tuo figlio potrà sopravvivere. Ora. Me ne sta andando? Freya. L'ultima volta io sono stato... No. Fai bene a dubitare della parola di un dio. Non devi giustificarti. Non con me, non per questo. Con me sarà sicuro. È la promessa di una madre. Questa è tanta roba. Chissà aspettavano una cosa così. Ragazzi, per questo è tutto. Noi ci vediamo... Focacciotti. Ah, vi considero ragazzi. È un problema molto serio. Noi ci vediamo nel prossimo episodio, spero che questo video vi sia piaciuto. Io ultimamente sto pre-registrando, quindi li vedrete nella lista chi mi segue, perché la prossima settimana avrò un lavoro che mi porta dalle 7 del mattino fino alle 19. Io non ho possibilità di entrare, di registrare, almeno ci provo a registrare. Spero che il video vi sia piaciuto. Lasciate un like, iscrivetevi, commentate, fatemi sapere cosa ne pensate e a quale gioco io potrò portare la prossima settimana. Quando finisce questo, o in... Vabbè, con un altro gioco, va bene, va bene. Rayaman per ora è sospeso e... ciccio al culo per tutti. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Bye!